Dato che quasi tutti quelli della Digos votano il Movimento 5 Stelle, quindi non dovremo avere grossi problemi. Ci sono raccomandati che è una cosa civile di non bloccare il traffico. Noi faremo questa piccola passeggiata, innocua ma rappresentativa. Ci mettiamo in riga in fila indiana, ognuno con una cozza. In fila indiana, costeggiando il marciapiede, arriviamo fino davanti al più grande deposito di mitili avariati che è il Parlamento italiano. Ecco, io avrò questo, sono mille cozze arrivate da Livorno fresche e lì ci sarà un portacozze davanti al Parlamento. Ora, non vi sto a fare pippe, aspettiamo l'ok della questura, abbassa un po' il volume. Volevo solo dirvi questo, è un